Una LaRousse che sembrava dovesse ritirarsi alla conclusione di questo Gran Premio ma che invece ieri ha ufficialmente confermato che si ritirerà se questo dovesse verificarsi l'anno prossimo. Tra l'altro, solo per dare informazioni e dimostrare che non sempre critiche all'Italia su questi argomenti sono ben fatte, ma la Francia sta dimostrando in diretta un momento particolarmente difficile in senso generale. Pensate, i dottori stanno mangiando, non hanno ancora finito, mancherebbero circa tre minuti all'inizio delle prove ufficiali e se finiscono in tre minuti e ritornano nelle loro postazioni inizieranno le prove, questa prima ora di prove ufficiali. Vedete infatti che i piloti Stefano Modena cominciano a prepararsi tappini gialli antirumore nelle orecchie e poi via via sotto casco, casco e tutto il resto. Però bisogna vedere se anche i dottori del tracciato...